Il progetto Accord è un progetto, un registro, una sorta di database che ha accolto nell'arco degli ultimi due anni, i dati, soprattutto i metadati, quindi i parametri che vengono utilizzati per caratterizzare i dati in termini di qualità, di metodologia e altri parametri come l'anatomia e il tipo di malattia, di campioni di pazienti tumorali che sono stati analizzati tramite delle cosiddette tecnologie omiche di ultima generazione. Si tratta di tecnologie che raccolgono contemporaneamente una mole di dati molto ampia, per esempio l'intero genoma umano, l'intero trascrittoma umano, quindi tutti i geni del DNA che vengono trascritti in RNA messaggero, oppure la cosiddetta radiomica, quindi l'estrazione di caratteristiche quantitative dalle immagini, per esempio attacco di risonanza magnetica. Tutti questi dati, grazie alle loro grosse invenzioni e alto livello di granularità, possono essere utilizzati per trainare degli algoritmi di machine learning di intelligenza artificiale che ci consentono di gettare uno sguardo molto più profondo sulla biologia e le caratteristiche cliniche e anatomiche dei tumori. Ci sono ormai tantissimi dati che dimostrano come l'utilizzo di questi dati molto più complessi rispetto a quelli che vengono normalmente ottenuti tramite la diagnostica convenzionale, sono in grado di consentire una maggiore predizione della, per esempio, efficacia di alcune terapie e della prognosi di alcuni tumori. Sono tecnologie che finora sono state riservate principalmente alla ricerca di base e che quindi operando nell'ambito della ricerca di base sono state via via sempre più ottimizzate, migliorate nel tempo e adesso è giunto il momento di verificare la loro utilità nel contesto clinico, quindi verificare che effettivamente possano darci, possono consentirci di migliorare le nostre decisioni cliniche e quindi dare un beneficio ai pazienti. Per poter fare questa transizione dalla ricerca di base alla clinica, all'implementazione clinica, è necessario operare tutta una serie di trasformazioni su come noi raccogliamo questi dati, standardizzando le metodologie, verificando la performance di diverse metodologie in competizione, raccogliendo e metanalizzando tutti i dati che sono stati nel corso degli anni raccolti nei vari istituti che appartengono ad alleanza contro il cancro e anche altrove. E insieme anche, diciamo, modificando la struttura dei dati in maniera tale da essere facilmente leggibili dai computer e quindi generando degli algoritmi di machine learning trainati su dati veri, effettivi e soprattutto molto ricchi dal punto di vista clinico, perché spesso si tratta di pazienti in cui noi non abbiamo solamente il dato genomico, ma anche tutta la storia clinica, il trattamento e la risposta. È stato un progetto che è stato coordinato da me, dall'Istituto Europeo di Oncologia, con la collaborazione di quasi tutti gli istituti aderenti ad alleanza contro il cancro, che hanno contribuito con dati e con metodologie. È stato uno sforzo importante, su cui pensiamo di poter basare anche una futura evoluzione, far crescere questo database, in un vero e proprio registro, che monitorizzi l'utilizzo di queste omiche di nuova generazione nell'ambito degli ex italiani.